Scollegamento della batteria nei veicoli dotati di sensore della batteria integrato. In questi casi non è sufficiente allentare semplicemente il dado. Precedentemente si deve staccare il collegamento a spina dal sensore. Altrimenti l'eventuale formazione di scintille o il saltellamento del contatto potrebbero determinare un errore di comunicazione lin. Il sensore della batteria commuterebbe in uno stato passivo e non trasmetterebbe più dati al san vano posteriore. Nei veicoli con motore a benzina dotati di sensore della batteria integrato, lo scollegamento avviene in modo analogo. L'unica differenza, la batteria in questo caso si trova nel vano motore, mentre nei veicoli diesel si trova nel bagagliaio. Il montaggio avviene in successione inversa. In entrambi i casi, prestare attenzione a non dimenticare di ricollegare il connettore a spina. Il morsetto va serrato con una coppia di 6 Nm. Nei veicoli con codice 510 o 523, regolare infine ancora l'orologio. Grazie. Grazie.